Buongiorno a tutti, io sono Sara e sono un'istruttrice APA del centro di urno integrato Villa Sormani di Fondazione Sacra Famiglia. Cosa vuol dire APA? APA significa attività fisica adattata e rappresenta tutti quei programmi di esercizi specifici che hanno come obiettivo il rinforzo muscolare, il consolidamento delle capacità residue, il miglioramento dello stile di vita e anche dell'umore. Per riassumere faremo un pochino di ginnastica insieme. Iniziamo! In questo video eseguiremo insieme esercizi di mobilizzazione per l'articolazione del gomito che permettono di mantenere e migliorare l'escursione di movimento. Il vantaggio di questa mobilizzazione chiamata mobilizzazione attiva è quello di essere controllata direttamente dal soggetto, quindi siamo noi che decidiamo quanto e come gestire l'ampiezza del gesto. Eseguiremo tre esercizi e per ognuno faremo dieci ripetizioni. Cominciamo! Per il primo esercizio le nostre mani partono appoggiate alle ginocchia. Ci sediamo comodi con la schiena dritta appoggiata allo schienale. Da qui la nostra mano destra eseguirà delle piccole flessioni e andremo a toccare la spalla destra. Appoggio di nuovo, salgo e scendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cambio braccio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto! Per il secondo esercizio le nostre mani partiranno sempre dalle ginocchia, questa volta però il gomito cercherà di eseguire un'estensione, quindi cercheremo di allungare il nostro braccio in avanti il più possibile, come se volessimo cercare di afferrare qualcosa che si trova davanti a noi. Allungo e poi riappoggio la mano sul ginocchio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cambio braccio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bravissimi! Per l'ultimo esercizio le nostre mani adesso partiranno dalle spalle. Da qui cercheremo di distendere il braccio e di allungare la mano verso il pavimento. Torno su e cerco di distendere. Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cambio braccio, la mano sinistra sulla spalla sinistra, da qui cerco di distendere il più possibile verso il basso. Uno, due, tre, quattro, cinque, due, sei, sette, otto, nove, dieci. Benissimo! Tutti gli esercizi che abbiamo visto in questo video possono essere eseguiti anche muovendo le braccia contemporaneamente. Quindi questo, 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 o quello che abbiamo fatto adesso. Per oggi abbiamo terminato. Vi ringrazio per avermi seguita e per aver fatto un po' di ginnastica insieme a me. Vi aspettiamo presto per il prossimo video. Un caro saluto da tutta l'equip di villas ormai.